Che avrebbe parlato lo ha sempre detto e così ha fatto per Giorgio Baita teste chiave nel processo per le tangenti almose il sistema di dighe mobili alle bocche di porto di Venezia. La sua linea è chiara, i soldi, le mazzette insomma le prendevano tutti. Non c'erano grandi distinzioni tra destra e sinistra, il consorzio Venezia Nuova puntava sulle persone e sceglieva i candidati da appoggiare a affermato nell'interrogatorio. Ma non solo Giorgio Orsoni o l'ex ministro Altero Matteoli Baita riferisce di aver aiutato anche Massimo Cacciare nel 2005 e Renato Brunetta nel 2010. Quando venne meno l'appoggio della Lega all'ex ministro del governo Berlusconi allora Mazzacurati si preoccupò di finanziare Orsoni cercando di nascondere la cosa a Brunetta. Il test è anche illustrato il sistema Mose nel suo insieme. Lo Stato finiva a suo dire per spendere circa 100 milioni in più l'anno solo perché il consorzio esisteva. Ogni intervento costava in media il 12% in più che finiva direttamente nelle casse del consorzio per alimentare naturalmente i fondi neri con cui pagare tangenti e sponsorizzazioni. Con queste si creava un clima favorevole alla struttura e si potevano tenere sotto controllo eventuali verifiche fiscali da parte della finanza. 5 milioni di euro per consentire lo svolgimento della Coppa America-Venezia è invece l'astronomica somma che alcune imprese avrebbero speso nel 2012 su ordine dell'allora presidente Mazzacurati per aiutare Orsoni ad ospitare a Venezia la prestigiosa manifestazione. A settembre si replica, toccherà le difese contro interrogare.